Bene, ci rincontriamo davanti all'ascensore, in cui come pensa voi che dobbiamo scendere Ah, ecco perché non scendiamo... ho capito Allora... Quindi, adesso, era... questo deve scendere Sto scendendo e vengo a scendere Quindi, entriamo nell'ascensore Così mi fai venire, infatti, però... Mi pare che dobbiamo scrivere desolation... no, desolationis, scusatemi... Dicubine... Desolationis 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 Quindi, secondo la sua logica ci conviene tirare una palla e vedere cosa succede Mettimi fretta però, Dracula Sì, sì... Olè, ce l'abbiamo fatta... Quindi, resta l'unica porta che è questa... E andiamo! I hope I'm not mistaken Dunque... Che si fa? Scendiamo Ma se mi cade una di quelle in testa... E quindi? E quindi? Dove lo vedo? E io questo? Ok E io mo' non mi ricordo mica Davvero? Lo buttate totalmente a caso! Che culo! Ok Andiamo avanti Fate l'entusiasmo Allora Muuu Muuu Ti ho fatto Muuu 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 Bene, riproviamo Allora Secondo me dobbiamo fare così Cripp Poi non lo so Allora, vediamo Facciamo così Quel coso lì si spostano Allora Passiamo Allora 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 Passiamo No Poi Andiamo questo coso qui Accendiamo di nuovo Facciamo il giro intorno Muuu Ok Capito 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 Poi torniamo lì dietro Azioniamo di nuovo quell'affarino lì Così Così No Sono arrivati Allora 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 You're right, I'm playing with you But will you really be able to stay calm? I'll try That's brave, Ellen In any case, it was about time I really thought that your strength would fail you before you could make it here Why were you expecting me? My dear, that's not the right question I just knew that you would come And what have you come so far to find? Don't tell me that you're here to prevent the shadow from getting a hold of my wife's blood You know it's not true No You could have come here for any number of reasons Curiosity Getting away from it all Wanting to find the one who betrayed you I couldn't care less about him Good You'll be happy to learn that he's at my mercy He got trapped in the limbo That you were able to avoid I want you to recover my portrait He brought it I want you to recover my portrait What do we do? Do we accept the refusal? Do we accept the refusal? Well What would you like? Avere lo stronzo che ti ha lasciata così O sopravvivere? Ma io direi sopravvivere You're right That's your survival instinct talking I'll think about it For the time being Obey Bring me my portrait, Ellen Ma quanto te la tiri Ora capite perché odio questo gioco Guardate Dracula quanto è brutto Bene Allora Termino anche qui questa parte Perché voglio lasciarvi l'ultima in un video a se stante Ma dobbiamo andare lì a parlare con Adam L'immagino Quindi ci vediamo al prossimo video con l'ultima parte di Dracula 5 Olé